Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Caro San Pasquale Bailon. Tu che con umiltà e devozione, hai servito Dio con il cuore puro e l'anima ardente, vieni in nostro aiuto, e intercedi per noi presso il Signore. Tu che hai vissuto una vita di semplicità e amore, mostrando sempre una profonda fede nell'Eucaristia. Insegnaci a cercare la presenza di Dio, in ogni momento della nostra giornata. San Pasquale. Patrono dei cuocchi e dei pasticceri. Benedici il nostro lavoro quotidiano. Aiutaci a svolgerlo con la stessa dedizione e gioia, che tu mostravi nelle cucine dei conventi. Fa che il nostro cibo, sia preparato con amore e cura. affinché possa nutrire non solo i corpi, ma anche gli spiriti di coloro che lo consumano. O glorioso Santo. Tu che hai difeso con coraggio il Santissimo Sacramento. Dona a noi la tua stessa forza. Per affrontare le difficoltà della vita con fede incrollabile. Rinnova in noi la devozione eucaristica. E fa che possiamo riconoscere e adorare Cristo. Presente nel pane e nel vino. Intercedi per noi. Affinché. Possiamo crescere nell'amore verso Dio e verso il prossimo. Seguendo il tuo esempio di carità e servizio. Concedici la grazia. Di vivere una vita piena di preghiera e sacrificio. Sempre aperti alla volontà divina. San Pasquale Bailon. Tu che sei stato scelto come patrono dei congressi eucaristici. Veglia su tutte le iniziative. Che mirano a rafforzare la fede e la devozione. Verso l'eucaristia. Fa che. Attraverso questi momenti di comunione e riflessione. Possiamo avvicinarci sempre più a Dio. Con fiducia e speranza. Ti preghiamo di ascoltare le nostre suppliche. E di presentarci davanti al trono dell'Altissimo. Affinché. Possiamo ricevere le grazie necessarie. Per vivere una vita santa e devota. Amen. Ave, o Maria. Piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.